Scopriamo la benefica meditazione con un cristallo di ematite. L'ematite è una pietra dai toni metallici grigio-neri, conosciuta per le sue proprietà di radicamento e protezione. È associata al chakra della radice, che rappresenta la stabilità, la sicurezza e la connessione con la terra. Ecco alcuni benefici e utilizzi delle ematite nella meditazione. Rilassamento e calma. L'ematite aiuta a calmare la mente e il corpo, riducendo lo stress e l'ansia. Aumento della consapevolezza. Questa pietra può aiutarti a diventare più consapevole delle tue aspirazioni e scopi nella vita. Forza e coraggio. L'ematite è nota per infondere coraggio e combattività, aiutandoti ad affrontare le sfide della vita con determinazione. Equilibrio energetico. Regola la quantità di energia nel corpo, attirando l'energia spirituale quando è bassa e scaricandola quando è troppa. Miglioramento della concentrazione. Può aiutarti a essere più concreto e pratico, migliorando la tua concentrazione e riducendo la distrazione. Consigli per la meditazione. Trova un luogo tranquillo dove non sarai disturbato. Tieni le matite in mano, o posizionala sul chakra della radice, alla base della colonna vertebrale. Ora concentra la tua mente sulla sensazione di stabilità e sicurezza. Immagina il suo colore metallico che ti avvolge, l'energia della terra che fluisce attraverso di te, portando equilibrio e radicamento. Respira profondamente, e lentamente. Con ogni ispirazione, immagina di assorbire l'energia protettiva delle matite. Con ogni ispirazione, lascia andare tensioni e stress. Buona meditazione! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!